Buongiorno, sono Aldo Cibice e sono felice di partecipare all'Italian Design Day 2021. Il tema di quest'anno, progetto e materia, nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in Italy, mi sta particolarmente a cuore. Oggi più che mai è necessario fare una riflessione sul design a monte della produzione, su cosa dobbiamo fare prima di metterci a progettare, perché solo ripensando ai processi, ai materiali, alle nuove tecnologie e alla vita dei prodotti, potremo avviare un percorso virtuoso per un futuro possibile. Grazie a tutti.